Sì, è nato il 19 febbraio, si chiama Gabriele, Gabriele Ciamarro, solo che di giorno fa l'arcangelo E di notte si trasforma in baby boss, lancia il ciuccio così No, cioè non dorme? No, ho dormito tipo quattro ore Amore, ma il papà, scusa Paolo Ciamarro che fa? Il papà adesso è a casa con lui Sì, con la creaturella Infatti volevo dirti, dato che ho visto la dependanza, quella in legno, in giardino Ti fermi qua? Posso dormire lì? Per favore Va bene Tu di che, diciamo che io ti ho chiesto di restare una notte in villa Ti faccio dare la suite Non ti preoccupare Lo vuoi veramente? Giura, riprendo